E' una tua vittoria Devi trovare la sala radio e metterti in ascolto Cos'è la Medusa? Una nave spiaggiata qua vicino Con i pirati di guardia? La via del guerriero, Jason A destra è il tuo corpo e la mente seguirà Il Tatao ti sarà d'aiuto Un'altra Scriviti al nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Ciao, fratello Oddio 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 Grazie a tutti. 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 Ok, Gesù, è ora di occuparsi dei pirati. Grazie a tutti. Odio questo posto. Grazie a tutti. 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 Oh... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.